Buongiorno a tutti, l'Italia in piena emergenza e tutto ciò che non è indifferibile viene giustamente rinviato, compresi i concorsi pubblici. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri degli scorsi giorni, in particolare con quello dell'8 marzo, era infatti stato previsto il rinvio di tutte le procedure concorsuali pubbliche che non fosse possibile svolgere in modalità telematica o comunque per soli titoli, tranne naturalmente le procedure concorsuali riguardanti il personale sanitario e il personale della protezione civile. Queste misure inizialmente previste per la cosiddetta zona rossa, come sappiamo con il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo, sono state estese a tutto il territorio nazionale. Naturalmente questo rinvio in massa dei concorsi pubblici ha coinvolto anche quelli riguardanti il settore scolastico. Nello specifico, con decreto del Ministro dell'Università della Ricerca, è stato disposto il rinvio delle prove di accesso al quinto ciclo del TFA sostegno, che erano inizialmente previste per il 2 e il 3 aprile. Sono state rinviate al 18 e 19 maggio, rispettivamente per la scuola dell'infanzia primaria e per la scuola secondaria. Contestualmente è stato prorogato il termine per la conclusione dello stesso quinto ciclo, spostato a giugno 2021, e per la conclusione del ciclo attualmente in corso, che dovrà concludersi, salvo ulteriori prologhe, a entro maggio 2020. Per quanto riguarda il concorso ordinario e straordinario, al momento non vi è alcuna novità, nel senso che il decreto scuola aveva previsto che entro dicembre 2019 avrebbero dovuto essere banditi i due concorsi, termine poi prorogato dal decreto 1000 proroghe al 30 aprile 2020. Al momento quindi, non essendo ancora stati pubblicati i bandi, non c'è nulla da rinviare e tuttavia, anche in considerazione del fatto che questa mattina non si è riunito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione doveva rendere il parere previsto, preliminare per la pubblicazione dei bandi, si immagina che anche la pubblicazione dei bandi possa essere ulteriormente prorogata. Nell'ambito di questi rinvii di massa è stato coinvolto anche il concorso per dirigente scolastico. Infatti, con decreto legge, il Governo aveva disposto il rinvio in toto di tutte le udienze civili penali e amministrative fino al 22 marzo. Proprio il 12 marzo doveva tenersi l'udienza innanzi al Consiglio di Stato per la discussione degli appelli proposti dal Ministero contro le sentenze del tarlazio di annullamento del concorso per dirigente scolastico. Udienze che naturalmente sono state rinviate d'ufficio dal Presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato e sia in attesa della fissazione della nuova udienza. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli ulteriori sviluppi, visto che siamo in continuo aggiornamento visto il cavalcare dell'epidemia. Grazie a tutti.